Marzandello Gossip Time La notizia ufficiale Claudio e Anna si sposano E' ovvio che stiamo parlando di una mente malata e perversa Quello che mi ha colpito sono stati i dettagli Il modo minuzioso e accurato con cui ha agito Professoressa, vede? Ultimamente io e mio marito non passiamo un buon periodo Sono cose che capitano E magari di questo Christian soffre Magari si sente un po' trascurato La verità è che io e mio marito ci siamo preoccupati molto di noi stessi E poco di oggi 67 coltellate al volto sono tante Io ho sentito solo le prime 4-5 e poi più niente La ragazza deve essere uscita da quello strip club là in fondo Probabilmente seguita da qualcuno e si è venuta a nascondere qui dietro Beh, non si è nascosta tanto bene Immagino che anche di là non abbiamo testimoni Che cosa ci faceva là dentro? Prostitute? Ancora non lo sappiamo Non ci sono documenti, né vestiti, né oggetti personali Niente di niente Che si può ottenere il sangue sacro? Bambi Bambi Grazie a tutti